Dobbiamo operare per far diventare il mondo una comunità di persone che si rispettano, si accettano nelle loro diversità, si prendono cura gli uni degli altri. Lo ha ribadito Papa Francesco parlando ai fedeli in piazza San Pietro prima della recita dell'Angelus, ricordando il tema dell'odierna giornata mondiale della pace, che è fraternità, fondamento e via della pace. Il Papa ha chiesto pace e fine delle violenze e dei conflitti e che prevalga la forza non violenta della verità e dell'amore. Dopo l'Angelus, Papa Francesco ha avuto parole di saluto per il Presidente della Repubblica Italiana, che nel messaggio di fine anno ieri si è riferito al Magistero Pontificio. E ha parlato anche delle tante iniziative per la pace organizzate dal mondo cattolico, citando esplicitamente la marcia che si è svolta ieri a Campobasio in Italia, organizzata come ogni anno dalla Conferenza Episcopale, dalla Caritas e da Pax Christi.